L'incidente è nel pomeriggio di martedì 13 ottobre intorno alle 16 nel giardino di un'abitazione privata situata in piazza del municipio San Giusto Canavese. Un uomo di 69 anni si è ferito con i taglierba mentre effettuava dei lavori agricoli nel suo giardino. Il taglierba li è passato su la gamba. Sul posto sono intervenuti la croce rossa di San Giorgio Canavese, i vigili del fuoco di Ivrea, il drago 55 dei vigili del fuoco Knissaf e le risoporse del 118. L'uomo dopo le prime cure è stato ritrasportato al CTO. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di San Giorgio Canavese per gli accertamenti del caso. Grazie per la visione. Grazie a tutti.